Un uomo di 36 anni, armato di katana, è stato arrestato nella tarda mattinata di martedì 30 aprile a Deynol, a est di Londra, dopo un'aggressione contro cittadini e agenti di polizia. Il bilancio è di quattro persone ferite in modo non grave ricoverate in ospedale, tra cui due agenti di polizia, e un tredicenne purtroppo morto per la gravità delle ferite riportate. L'allarme è scattato poco prima delle sette per la segnalazione di un veicolo che si era schiantato contro una casa nella zona di Tarlow Gardens, dopodiché è arrivata la segnalazione di persone accoltellate da parte del sospetto che ha continuato ad aggredire altri membri del pubblico e gli agenti di polizia intervenuti per fermarlo. La polizia ha aggiunto che l'attacco non sembrerebbe essere legato al terrorismo. Il primo ministro britannico, Rishisunak, ha descritto l'attacco come scioccante e ha affermato che tale violenza non ha posto nelle strade del Regno Unito.